Claudio Pazzini, dopo tre amichevoli arriva una partita importante, anche se un'altra amichevoli. Il derby contro la Compagnia Portuale nel Memorial Poggi, come siete preparati a questa partita? Come tutte le altre tre, magari questa riveste un'importanza particolare. La prima perché sarà la prima che giochiamo a Civitavecchia e la seconda perché, chiaramente essendo un derby, come tutti i derby che ci sono, dà una sensazione un po' particolare. Per cui speriamo di farci trovare pronti e di brindare la prima vittoria che sarebbe anche ora che arrivi. Si è conclusa la seconda settimana di preparazione, è iniziata proprio qui al Tamagnini. A che punto è questo Civitavecchia? Diciamo che piano piano stiamo crescendo. Vorrei ritornare alla prima intervista che feci il primo giorno, quale chiedeva un po' di pazienza per l'allestimento della squadra della Rosa. D'accordo con la società, ci stiamo muovendo sotto questa ottica e credo che dalla prima partita che abbiamo fatto a Città Castellana, quella che abbiamo fatto ieri a Ostiamare, i miglioramenti siano stati evidenti in mezzo al campo per quanto riguarda la nostra squadra. Quindi è contento del mercato che sta facendo la società? Diciamo che per quelle che possono essere le nostre possibilità, come ci stiamo muovendo, sì. Chiaramente ancora non siamo completi, dobbiamo mettere un paio di innesti nella squadra, però diciamo che tutto sta avvolgendo per quelli che erano le situazioni prima dell'inizio del campionato. Cosa manca per completare il quadro di questa squadra? Queste sono cose che ci teniamo per noi. Diciamo che mancano due calciatori, pochi minuti fa ho finito di avere un colloquio col Presidente che mi ha ancora di più confermato quelle che potono essere le mie sensazioni, che chiaramente poi sono derivanti dal campo, per cui da qui all'inizio del campionato verranno risolte anche queste due mancanze che abbiamo oggi. Grazie.